Iole Voleri, nome d'arte di Iolanda Povoleri, classe 1917, veneta di origine, ha recitato in soli 5 film, tutti girati tra il 1940 e il 1941. Durante la guerra si sposa con un ufficiale, come in un suo film, e poi si ritira dalle scene. Ho visionato tre dei suoi film, La Danza dei Milioni, La Fuggitiva e Manovre d'Amore. L'unico dei tre che mi sembra abbia qualche merito artistico è La Fuggitiva del 1941. La Fuggitiva è basato su di un romanzo di Millie Dandolo, autrice piuttosto in voga in quel periodo. La prima edizione del romanzo è del 39, ma come potete vedere, nel 1941, anno di uscita del film, il romanzo aveva già raggiunto la settima edizione, e poi è stato ristampato persino negli anni 50. Prima di mostrarvi brevemente la fototrama del film, se siete appassionati di cinema, vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto al video. La bambina Marina, interpretata da Mariu Pascoli, scappa di casa e per caso incontra Delfina, alias Iole Voleri, la quale ha appena visto sfumare il suo matrimonio ed è piuttosto abbattuta. Delfina riaccompagna la bambina a casa e il papà della piccola, facoltoso ingegnere, le propone un lavoro, fare l'educatrice della figlia. L'ingegnere poi si interessa a Delfina, tra i due però si insinua la madre naturale della piccola, una subretta maligna interpretata da Anna Magnani, che vive da sola e non dimostra alcuna attitudine materna. Delfina si sacrifica per far posto alla madre naturale, lascia la casa dell'ingegnere, la bambina esce a cercarla di notte e si prende una pulmonite ma si salva. Delfina nel frattempo si è riconciliata col nonno benestante che abita in montagna e cerca un po' di senerità in montagna e riceve la visita dell'ingegnere che la prega di tornare da lui e dalla bambina. Il film finisce con una scena mistica con lei in chiesa che prega e non si sa bene come va a finire la storia. Si può immaginare che poi lei torni a Torino per sposare l'ingegnere e che ne adotti la figlia, ma è solo una supposizione, è un finale aperto. Alcuni elementi della storia non sono molto convincenti e sono già stati indicati dal critico del Corriere della Sera in un articolo apparso l'8 novembre 1941, ad esempio quando le due donne si incontrano a casa dell'ingegnere in occasione della malattia della piccola. Sarebbe stato quello il momento di chiarire le cose tra i tre, ma rimane tutto in sospeso. Più che piacermi, il film mi ha molto interessato. Il primo motivo di interesse è la fotografia del film, ossia tutto ciò che è stato messo nell'inquadratura, come è stato messo e l'illuminazione dei vari elementi. Inoltre ci sono parecchie sequenze girate in esterni a Torino. Questo rende più realistica l'ambientazione ed ha anche un valore storico alle immagini. Ci sono dei primi piani di Iole Voleri, Iole Voleri nel giardino della villa con la bicicletta. Molto bella anche la scena che raffigura la sua disperazione dopo che il matrimonio è andato a monte. C'è molta profondità di campo. L'attrice è nel mezzo ben nitida. Sulla destra la strada, a sinistra una cancellata. Tre piani diversi, anzi quattro perché i fiori sono bene in evidenza in primissimo piano. Anche in foto mi sembra un'immagine tridimensionale. Nella presenza costante dei fiori chiari in primo piano nel cinema dei telefoni bianchi parlerò in un prossimo video sui telefoni bianchi. Riguardo alla storia in sé, mi sembra di avere notato che quando un film si basa su romanzi scritti da autrici donne sono presenti in esso venature più malinconiche e drammatiche e i film hanno per protagonisti principali una o più donne. Gli uomini sono un po' sullo sfondo. Questo l'ho notato per La Fuggitiva, ma lo avevo già notato per Violette nei capelli, di cui ho parlato nel video su Lilia Silvi. E lo stesso ragionamento vale per Signorinette, famosissimo romanzo per Ducande dell'anteguerra, scritto da Wanda Bontà, un'altra regina dei romanzi rosa da cui è stato tratto il film omonimo con Carla del Poggio, di cui ho trovato solo degli sbiaditi fotogrammi su YouTube e mi pare introvabile. Se ne sapete qualcosa potete scriverlo nei commenti. Per concludere direi che Iole Voleri è stata un'attrice promettente del nostro cinema, ma purtroppo non è stata utilizzata al meglio nei pochi film a cui ha partecipato. Io la ricorderò soprattutto nella Fuggitiva. Se il video vi è piaciuto potete mettere un mi piace e magari lasciare un commento e io vi do appuntamento al prossimo video.